Ma non ci siamo solo noi Gli scontati sono nati ufficialmente, la storia è un incontro al mare cesenatico tra me e Lorenzo lui usciva dalla spiaggia e io entravo verso le 5 del pomeriggio L'avventura degli scontati è proseguita e cresciuta nel corso degli anni Le serate tra amici si sono trasformati in una tournée piano e voce e ovviamente repertorio contiano Lorenzo Kruger e Giacomo Toni con il loro omaggio a Paolo Conte hanno chiuso la sezione del Festival delle Musiche, Tradizioni e Contaminazioni all'Eden Lab trasformando il palco dello storico cinema rettino in un poetico viaggio sotto le stelle all'interno della musica d'autore mescolata all'eronia dei due cantatori romagnoli Le tradizioni sono la base, su cui scrivi o impari a fare qualsiasi cosa Poi se sei predisposto alla corruzione impari anche il vantaggio di un'emancipazione in quello che stai facendo C'è un po' il rischio a volte di farsi affascinare troppo dalla tradizione e sfiorare il nostalgico o a volte la furia di dover distruggere a tutti i costi quello che è stato per fare qualcosa di nuovo Credo che la storia sia sempre un continuum e se riesci a provare un compromesso tra il vecchio e il nuovo sei a cavallo Io e Lorenzo ci siamo incontrati parlando e abbiamo riconosciuto che Conte è stato un cantautore che ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato un linguaggio, cantautorale è una brutta parola, un linguaggio lirico quindi è un percorso di ritorno alle origini e di studio in una maniera senza devozione però con amore con amore